ma non è lo stesso traccio? la ho sentito come ho invitato per fare un tempo anche per andare avanti e indietro questa è una pietraia se la vuoi fare? facciamo lo che vuoi è sosta al ginocchio io ho scomparuto il mezzo è troppo sosta l'ho fatta dietro si è stato qua perché è veramente sosta tornerete indietro forse tu lo sai ma forse ma che si torneranno indietro è sosta andate è la prima parte voi ve lo volete fare? andate infatti andate andate è una strada dritta è una strada dritta non accorgi è come un fiume ma poi dove si arriva? poi esce tutto l'asfalto e siamo qua praticamente? no sono qua e va bene ma ci troviamo? sono sicuro che tornerete indietro se arriviamo all'asfalto poi dobbiamo tornare indietro no salgo io sopra dall'altro lato da qua salgo e tu da qua ci troviamo uguale che vuoi fare? che vuoi fare? ori morano e loro vanno a casa o te faccio? no non farà è una strada non è una strada è una strada è una strada No, no, no Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Buongiorno. Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 acqua frizzante, ma è interessante, è particolare, però saprete che non sai. Il problema è che non si può, arrivi subito a stare finito. E' brutto questo arrivo qui vicino, tu hai capito? Io ho cominciato l'allenamento, si deve staccare l'acqua. Se tieni la forza, le cose le fai, ma si deve formare ogni metro, passi una scalina e ti fermi. Passi una scalina e ti fermi, faci una rata, tu perdisci pure velocità, hai capito? No, no, mangi fa lì, mangi fa lì perché se non ci sono spizzi. Sono stanco però mangi fa. Non mi ricordo che si scavava, secondo me l'acqua l'ha fatta a scendere. Non lo so, non ti so dire però, non ti so dire che sei un guai a tu stesso, perché io l'ho fatto proprio la prima volta. Secondo me l'ha fatta a scendere qui. A scendere però. A salire, a salire. A scendere. A scendere. Si mi ricordo che oggi faccio un esterno pure qui. Perciò, per la stessa erna possibile. C'è quello che pensi che devi spustare qui? Eh, penso che è possibile. Un po' di più. Ehi! Perdi ogni atto. Eh. Vai, ci vanno andando per le ruote. Un po' che la veda. E' un po' con la ruota più a sinistra. Stai un bacione a freddo. Eh, niente, mi rende una mano più forte. Lo sai che non puoi portare. Sai che viene freddo qui. Ehi, mi rende una mano che ha il voto. Ma escaputto che non puoi portare. È un calciaro. Se lo veda dentro. Si chiara dentro. Mi rende una mano più forte, mi rende un oscrono. non è una rete su tutti i piedi mamma mia ho fatto tutto comunque il motore non taglio ma ci sono tutti che ho fatto tutto perché sono tutti i gradini, però sono tutti i gradini su tutto, sul roccio se c'è di mamma da sinistra se mi prendi le facce provi io mi è arrivato un motore e mi faccio e io lo so ma avete telefonato? e dice che non mi si consegni, non è il giornale del rete e poi dice ne sembra così pure a me un mese a costo non mettere in consegna e poi la roba fa nascere e poi la roba e poi la roba e poi la roba e poi la roba ora ci metto il bottone di spegnimento ci vuole la non riusciva a darci ok ora perché non lo dico e adesso la coppia andate si si aspetta tempo di spostare come dire una poca moto scelta di l'olio che facciamo insomma su preci noi senti troppo scorrego se non mi savi se non mi hanno aspettato fino a mo che tornava nese che non tornava nate di oggi era pensato prima porto camelo sai il suo calone da fatto avvenzato a bordo come si è chiamato che da lei è banato ti trovo con queste cose di strip che cosa? che di sì bello eh guarda che magica prima di ancora non l'ha montato c'è veramente l'ho montato un pochettino di occhiavo e chissà che cosa c'è vicino a questo casco qua visto che lì si è tutto un pietro vicino a questo casco c'è un pochettino di occhiavo e c'è un pochettino di occhiavo e c'è un po' per adattarmi però un pochettino di settimectore al e questo è per partire faremo facile partire e questo è il nostro canale è il nostro canale Grazie a tutti. 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 Buon giri. Puoi venire più avanti, mi puoi vedere. Non so se mi conviene tornare indietro e prendere un po' di velocità, ma penso di sì. All'occhio è a destra? Praticamente io sto già a destra. Questa è la direzione che io devo andare solo dritto. Ah, questo è giusto. Però il scalino è bello ampio. Ehi, tu puoi venire pure venire a fare... Siamo a noi. C'è un cazzo, chi c'è da venire? Veniva siamo a noi e passava a mezz'oretto con noi. Ti dico che non va ne avanti e ne dietro. Vino, aspetta di qua, quando vedi l'asfalto ti fermi. Eh? Va bene. Ti devo aspettare là. Ti devo stare lì. Quando vedi l'asfalto ti fermi. Va bene. Spero che pensi che ci torna a rete, eh? È bello che non torno mai. Ehi. Bimbo! Ma di là? Non si sale. Dove? Di là. Festa Rocco. Adesso venire a casa, va giù. Vabbè. Vabbè, c'è. A capo di se vuoi si partì. Rocco, faccio un'attima da provo. Vabbè, c'è, c'è. Ça va sempre a garne. Ok, è isso Tu puoi partire Rocco? O que é a escala? Está enquadrando? Ah, eu não sei porque você tem uma travura Sim, sim, tem que formar de novo da me, mi fa solo uno slancio, e non girare troppo a destra, non girare troppo a destra. Ok, perfetto, questo è, soffernudo, 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 è per la fornita. Mauro, iscrivete al canale,edsù può andare in un'altra zona, che riguarda il suo caso, che non ia guardare troppo a destra, adesso ero lobsano, e ha chiesto, di stare a una strada, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.